È stato approvato dal Consiglio regionale il progetto di legge per la riforma dell'edilizia pubblica. CGL Cislewil della Lombardia con i sindacati regionali degli inquilini Sicet, Sunia, Uniat, Unione inquilini, Cogna hanno sollecitato modifiche alla riforma chiedendo più case, più servizi, più tutele e diritti. Con 12.000 firme raccolte a sostegno della petizione popolare sulle proposte dei sindacati presentate alla regione il 26 maggio scorso e il presidio organizzato in occasione della votazione della riforma CGL Cislewil e i sindacati degli inquilini hanno inteso ribadire le proprie preoccupazioni e critiche sulla legge dell'edilizia pubblica. Per i sindacati, infatti, nonostante alcune modifiche, la legge rimane una riforma sbagliata. Non c'è un finanziamento per l'edilizia pubblica se non un finanziamento trovato nell'assestamento di bilancio ma non è un fondo strutturale che è poi quello che serve per l'edilizia pubblica. C'è uno sbarramento per l'ingresso dei poveri nell'edilizia pubblica comunque per le famiglie più svantaggiate perché troppe famiglie svantaggiate e povere nell'edilizia pubblica abbassano i ricavi da canone e questo è ritenuto una cosa sbagliata e da scartare mentre invece facendo questo si snatura la finalità propria dell'edilizia pubblica che è di dare una risposta alle situazioni dei meno ambienti, alla difficoltà e al disagio abitativo di quanti sul mercato non possono trovare una soluzione alternativa. Tra le poche modifiche nell'approvazione della riforma, l'accoglimento del criterio preferenziale nell'affidamento dell'incarico di servizio degli operatori privati quando questi apportano alloggi di loro proprietà da affittare nel sistema dei servizi la tutela degli anziani e dei nuclei con gravi patologie croniche e gravemente invalidanti nei piani di vendita che non possono essere sottoposte a mobilità forzose il riconoscimento della rappresentanza sindacale nelle politiche abitative in regione e il riconoscimento delle autogestioni dei servizi da parte degli inquilini. Noi prendiamo atto della disponibilità dell'assessore di continuare il confronto con il sindacato rispetto ai regolamenti attuativi che sono tanti, sono sei regolamenti attuativi da farsi il primo e il più importante a quello sugli accessi da qui a sei mesi dopodiché il nostro impegno sarà massimo nel confronto e nel fare proposte per rendere meglio possibile la gestione di questa nuova situazione di questa nuova normativa negli interessi di che rappresentiamo vorremmo soltanto che però questo confronto così come c'è stato per la legge non avvenga a valle della definizione del testo normativo perché poi le cose diventano più difficili per tutti.